Piccoli green influencer crescono, viaggio alla scoperta della magia del riciclo. Questa mattina la presentazione nell'aula consigliare di Palazzo Baronale, alla presenza della stampa e dei dirigenti scolastici dei nuovi istituti comprensivi del territorio, principali destinatari della progettualità. Andrea Speranza, autore del libro Gigi e la forza di volontà, un modo innovativo, un metodo simpatico e divertente per interloquire con i bambini e formarli ed educarli alle tematiche ambientali. Gigi e la forza di volontà nasce come un libro di editoria territoriale, quindi nasce con la volontà di poter portare uno strumento che possa essere valido ed educativo per i bambini affinché loro possano affrontare le sfide del futuro in maniera più adeguata. Il libro per i bambini soffre di un grandissimo problema, è quello che si può esaurire in maniera molto veloce, quindi la nostra prima volontà è quella di aver creato un libro che avesse un ciclo di vita più duraturo rispetto ai libri normali. Quindi cambia nella forma e per quanto riguarda invece i contenuti porta insieme l'integrazione tra libro e gioco, ma soprattutto parla di temi universali calati in una certa località del Vesuviano. Parla ovviamente di educazione civica, cittadinanza attiva, del ciclo dei rifiuti e soprattutto del senso di cooperazione. Come ti è nata l'idea del libro e perché divulgersi ai bambini? Perché come dice la frase principale della nostra start-up, il futuro è un gioco da bambini, i bambini sono il nostro futuro ma sono anche il nostro presente, hanno tutte le capacità cognitive e intellettive nel capire come poter affrontare certe sfide e poter aiutare i propri genitori, quindi i propri familiari a fare la scelta giusta. Come partner di questo importante progetto non potevamo non essere presenti e soprattutto non far nostro questo motto. Se è vero, come dice l'autore, che i bambini sono il nostro futuro, il futuro è dei bambini, quindi facciamo nostro questo monito dell'autore e spostiamo ovviamente questo principio fondamentale che è quello della sostenibilità, principio cardine di questo libro e partiamo adesso tutti insieme e tutti insieme sono certa che ce la faremo. Questo è un tema secondo me fondamentale e importante, non solo per adesso ma anche per il futuro. Noi crediamo tantissimo in queste cose e da qui anche l'iniziativa di sostenere con un patrocinio questo tipo di iniziative. In campo ambientale l'amministrazione prevede ulteriori mosse, ulteriori strategie e politiche di interventi? No, noi ne stiamo mettendo un sacco, ovviamente al di là voglio dire di tutto quello che abbiamo fatto per quanto riguarda adesso i ricicli e cose varie, sapete anche che stiamo sostenendo una serie di iniziative a cominciare dai parchi perché è anche quello ambiente. Prossimamente ci sarà anche un nuovo parco, insomma la nascita del nuovo parco perché crediamo che i parchi pubblici, l'ambiente siano importanti non solo per abbellire la città ma in particolar modo proprio per vivere in serenità, in tranquillità e questo aiuta tantissimo. Proprio bello che da Torre del Greco si cominci un viaggio verso l'educazione ambientale, farlo con i più piccoli come recita il titolo dell'iniziativa, piccoli influencer crescono. La forza di Gigi, la forza di volontà di questo libro di Andrea Speranza che attraverso un racconto anche con dei fumetti, quindi un racconto che è alla portata anche dei più piccini si costruiscono delle iniziative importanti per far accrescere la cultura della tutela dell'ambiente sin dalla prima infanzia. È assolutamente importante che continuiamo in questa direzione, che ci siano le scuole stamattina qui al comune di Torre del Greco con il sindaco Mennella, con l'autore del libro e chi ha organizzato l'iniziativa, le associazioni. Credo che gli ingredienti siano quelli giusti e poi come giustamente ci ricorda proprio l'influencer Greta Thunberg non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Renato Grimaldi, presidente Formit, promotore del progetto Piccoli Influencers Crescono nato da un'idea di Andrea Speranza, un modo simpatico e innovativo per interagire con i giovani sulle tematiche ambientali. È un'iniziativa che parte da Torre del Greco ma rientra in una circuitazione regionale. La scelta di Torre del Greco è perché questa è una start-up di una persona, di un cittadino di Torre del Greco e quindi era doveroso partire da Torre del Greco. E poi questo progetto rientra in quella che è la mission proprio dell'ente che presiede e rappresento, quella di intervenire su tematiche che oggi sono all'apice dell'indice dell'agenda della nuova programmazione nonché anche del PNRR e poi noi lavoriamo sull'istruzione e formazione e quindi un ruolo principe non poteva non darsi alla scuola che sarà la vera protagonista di questa iniziativa. Quali saranno le tappe salienti e come si articolerà il progetto? Le tappe salienti di questo intervento è il coinvolgimento di tutti i comprensivi presenti sul territorio di Torre del Greco attraverso un primo momento di formazione che si farà con i docenti e poi ovviamente attraverso il coinvolgimento di quelli che sono i giovani facente parti scelti dalle istituzioni scolastiche che realizzeranno questa campagna di sensibilizzazione su queste tematiche estremamente importanti. Le scuole ci stanno a cuore, questo l'abbiamo ribadito in tutte le occasioni pubbliche. Ci sta a cuore il tema che proponiamo stamattina, che è un tema di cura e di tutela dell'ambiente e pensiamo che intervenire con i ragazzi sia assolutamente essenziali. Come assessorato all'istruzione appoggiamo questa progettualità che è tra l'altro a titolo completamente gratuito per il nostro ente e quindi forniamo uno strumento concreto alle scuole per poter lavorare con i ragazzi su tematiche che sono di fondamentale importanza. Grazie a tutti!